Musica Ciao a tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV, sono Ernestina dalla Corte Lucio, dall'altra parte della Camera mio fratello Inacio dalla Corte Lucio e siamo qua nella FACA, Federazione di Associazioni Calabresi in Argentina per celebrare oggi la Noce dello Museo, vuol dire la Noce dei Musei. Questo evento che fa la città di Buenos Aires da più di 15 anni in modo gratuito che apre le porte dei musei e centri culturali per tutta la cittadinanza in modo gratuito. Oggi, in quest'anno, siamo a più di 280 centri e musei diversi. Venite con me, conoscete! La Nota dei Musei nella città autonoma di Buenos Aires giunse il suo quindicesimo anniversario in questa edizione 2019. Quest'anno, più di 280 musei e centri hanno aperto straordinariamente in orario serale al pubblico dalle ore 20 alle 2 del mattino. Questa festa dedicata alla cultura è accessibile a tutti con ingresso libero e gratuito. La Noce dello Museo viene organizzata dal governo della città di Buenos Aires, il quale ha visto una notevole crescita e partecipazione. In questa magnifica serata culturale, diversi mezzi di trasporto pubblico sono messi a disposizione in modo gratuito per raggiungere le diverse iniziative e programmi organizzati in tutta la città. Accompagnateci a scoprire alcune delle proposte italiane di questa serata che ha offerto un ricco programma di spettacoli dal vivo, mostre e iniziative speciali. Iniziamo dalla FACA, Federazione dell'Associazione Calabresi in Argentina. Questa federazione compie i suoi primi 46 anni e ha offerto all'interno della sua sede una grande varietà di proposte che vanno dal suo Museo dell'Immigrazione Calabrese nel primo piano a fotografie antiche nel salone principale. Troviamo anche dei giganti, sculture e diverse opere d'arte come quelle di Antonio Sassone. Ci hanno dilettato con le sue voci il coro della federazione e il ballet folkloristico con le sue danze tipiche. Giulio Croci, presidente di FedItalia, la confederazione delle federazioni italiane dove la FACA è parte di questa confederazione. La FACA è la federazione dell'Associazione Calabresi in Argentina e oggi festeggia anche la Notte dei Musei. Giulio, dimmi, cosa pensi di questa festa? Siamo da otto anni che partecipa la FACA alla Notte dei Musei. Per me è un orgoglio, sono figlio di questa casa, sono stato presidente e la FedItalia è un orgoglio accompagnare a questa istituzione che partecipa di questa attività culturale la più importante della storia della città di Buenos Aires. Sono più di un milione di persone che girano oggi nella città visitando diversi musei. È molto importante che l'italianità sia presente qua attraverso la federazione calabrese ma anche la Dantaliere e altre istituzioni che partecipano di questa grande Notte della Cultura a Buenos Aires. Stupendo. Giulio, possiamo chiedere un saluto per Patrimonio Italiano TV? Certo, un grande saluto a Patrimonio Italiano TV e grazie per accompagnare tutte le manifestazioni, tutte le attività della collettività italiana in Argentina. Grazie, ciao! Presenti anche le foto di una calabrese famosa, Natuzza Evolo. Nell'anniversario della sua scomparsa è il costume tipici di Maria, una carinissima calabrese che conosceremo adesso. Abbiamo incontrato Maria Concetta Cotroneo, calabrese di Bagnara, Reggio Calabria, che abita a Buenos Aires da quando è arrivata nel nostro paese il 4 dicembre 1948. Con molta gioia e orgoglio ci insegna i suoi costume tipici calabresi, fatti tutti da lei. Dani, che Maria collabora con la facca, indossa e presenta i suoi costumi in diverse manifestazioni culturali della nostra comunità. Ciao a tutti gli amici, oggi siamo con... Gustavo Figueroa, calabrese, argentino calabrese. Argentino calabrese e con... Antonio Congiusti, argentino calabrese. Ecco, stupendo! E da chi siamo accompagnati? Come si chiamano questi? No, giganti. Ecco, i giganti. Da quanto che sono qua in Argentina questi giganti? Nel 1968. Ecco, stupendo, 70-68. E qual era lo scopo di questi giganti? Perché facevano questi giganti? E questi giganti erano... annunziavano la festa del paese per sette giorni. Ecco, stupendo, bellissimi complimenti. Ragazzi, possiamo fare un saluto per Patrimonio Italiano TV? Saluto Patrimonio TV. Saluti a tutti. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Siamo oggi con... Graciela Laino. Ecco, di dove sei? Di Calabria? Di Santa Gata d'Essaro, in la provincia di Cosenza. Da quanto che partecipi qua a FACA? Dalle otto anni il mio padre mi portava sempre. Cosa pensi di questa Noche de los Museos? È bellissima. Io come vicepresidente di FACA mi sento veramente molto orgogliosa di questa Noche tan speciale. Possiamo fare un saluto per Patrimonio Italiano TV? Sì. Facciamo un saluto così? Sì, saluti. Ciao, ciao. Ciao. Grazie a tutti. Ciao a tutti gli amici, sono Ernestina dalla Corte Lucio, dall'altra parte della camera mio fratello Innazio dalla Corte Lucio e siamo qua nel Club Italiano di Buenos Aires per la Noce dei Musei, cioè la Noce dei Musei. Venite con me per scoprirlo. Vi proponiamo una notte di musei tutta l'italiana e visiteremo adesso un'altra istituzione che questa serata ha aperto le porte e ha profonde radici nel bel paese, il Club Italiano di Buenos Aires. Il Club Italiano è da 120 anni una storica istituzione che, presente dal 1898 nel cuore della città di Buenos Aires, ha accompagnato la crescita della comunità italiana nel nostro paese. Il Club Italiano, nella sua magnifica centenaria sede, ha esibito diverse opere d'arte, pitture e artisti. Ci ha offerto in questa notte dei musei anche degustazione di cibi tipici e performance di artisti in vivo sul palcoscenico principale che hanno musicalizzato la serata. Il Club Italiano è un'altra istituzione che, presenta un'altra è un'altra è un'altra è un'altra è un'altra è un'altra è un'altra. Il Club Italiano è un'altra. Il Club Italiano è un'altra 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 è Valentina Nuvolari, artista italiana di 25 anni. E tu di dove sei? Di Mantua, Lombardia, Nord Italia. Ecco, stupendo, ecco la mia verità. Da quanto sei qua a Buenos Aires? Da cinque anni. E come mai a Buenos Aires? Allora, mia mamma intanto è argentina, sono venuta qua perché avevo metà famiglia italiana e metà famiglia argentina. Io ho vissuto per 25 anni l'Italia, poi sono venuta qua, penso a Buenos Aires, per me è una città meravigliosa in cui uno può crescere artisticamente parlando. E io, vabbè, che lavoro di questo, mi serve moltissimo stare qua. Ecco, stupendo, possiamo fare un saluto per Patrimonio Italiano TV? Saluti, Patrimonio Italiano. Ciao! Ciao a tutti gli amici, siamo qua con... Ida de Vincenzo, sono nata a Cropalati, sono venuta da piccola, abito a Buenos Aires. Ecco, questo... Io sono, mi dipinti, questo è Cropalati, questo è Calabria, un luogo di Calabria. E io sono anche, o sto presentando fotografie oggi, questo è Cropalati, il posto dove io sono nata. Ecco, stupendo, possiamo fare un saluto per Patrimonio Italiano TV? Sì, un saluto molto grande per Patrimonio Italiano TV. Ciao! Ciao! Cari amici, la nostra Noce de los Museos, Nota de los Museos, finisce qua al Club Italiano. Vi inviamo un abbraccio a tutti da Buenos Aires Argentina. Ciao, ciao! 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 Grazie a tutti.